Pissimo! Ma che gran sarto? Una confezione ti dico. Come? Beh, naturalmente, marzotto. Certo, il pezzo è controllato. Beh, naturalmente, marzotto. Dove? Ma nei negozi. Sì, proprio lì, è un esclusivista. Beh, naturalmente, marzotto. Noi donne ce ne intendiamo di più. Riconosciamo subito la superiorità di un tessuto, di una confezione. Il calore di una coperta. Beh, naturalmente, marzotto. Naturalmente, marzotto.